Bravissimo Leo, giù bene i piedini, spoglio terno, bravo! Amore da mamma! Eh? Ma Leo, bravo! Ehi! Eh? Allora, vi prego! Ok? Hop! Hop! Non due colpi, tu subito! Bravo! Amore, puoi spiegare le regole di questo gioco, per favore? You cannot jump a Boeing, you cannot jump a jump, you cannot jump a jump. Ok, perfetto, non ho capito niente, adesso chiedo una mano a qualcuno per capire che cosa dobbiamo fare. È la nostra scuola. Dai, vediamo un attimo. Vediamo! Eat Cosmetics mi ha mandato una bellissima box che vi faccio vedere prima che la Loli melli rubi in 30 secondi ci sono tutti i serums per la pigmentazione, per i pori, per l'idratazione, la vitamina C. Super nice! Why are you recording me? The third one, see I told you! Jane's here! I like her because... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok Loli, ora che abbiamo comprato il tuo Haute Couture, vi faccio vedere, questo è uno dei miei negozi preferiti qui a Lisbona. È un negozio di... Non so come si chiama... ... ... ... Guarda che cosa più linda, cosa di lenzuola, biancheria e qualche metri dopo la Livraria Bertrand, sempre nella Boa Garrett, la libreria più antica al mondo, fondata in tipo 1700 qualcosa. Se venite qua dovete assolutamente far timbrare il vostro libro, il libro che acquistate, perché loro timbrano acquistato dalla libreria Bertrand, bellissimo. Vai Lali, wake up, perché è così difficile svegliare gli adolescenti? Non è difficile da svegliare.